Allora, iniziamo da un'altra cosa. Domani è l'ultima telecronaca di Enrico. Dopo 13 anni, credo, 14-13, quindi più di 1200 telecronache. E quindi ti faccio in bocca al lupo per la tua nuova avventura e grazie di tutto. Per quanto riguarda invece il derby, il derby è sempre la stessa cittadina, è una partita molto importante per noi, per loro, ma per noi soprattutto, perché comunque dobbiamo continuare questa scalata. Il Bologna ha battuto l'Inter, quindi abbiamo il Bologna a tre punti. Bisogna cercare di ragguantarlo e poi soprattutto continuare su quelli che sono i nostri punti fatti in campionato, che momentaneamente sono 47 e quindi bisogna cercare di incrementare questi punti che sono stati fatti in campionato. Il cammino è lungo, la partita domani è molto complicata perché il Torino è una squadra molto preparata, ha delle buone qualità e soprattutto è una squadra molto aggressiva. No, poi basta meglio e domani si è convocata. Domani se c'è bisogno lo metteremo dentro, vediamo. Sicuramente non ha un minutaggio altissimo, però direi ha un buon minutaggio. Chiesa ha fatto praticamente ieri ha fatto un allenamento con la squadra, veniva da praticamente sei giorni dove aveva lavorato i primi giorni, non ha fatto niente, gli ultimi due giorni ha fatto a parte, devo ancora decidere ma difficilmente potrà partire dall'inizio perché comunque, ripeto, i giocatori che vengono da lungo periodo di inattività vanno gestiti. Lui ha giocato due partiti di seguito, se non sbaglio, con la Fiorentina e con il Nantes è normale che l'abbiamo un pochino pagata, però resta bene. La squadra ha superato il meno 15 perché comunque, ripeto, dopo la settimana di Bergamo con l'Atalanta, che abbiamo avuto la reazione post-Napoli, perché nella settimana tra Napoli e Atalanta c'è stata la sanzione, con l'Atalanta abbiamo avuto una reazione, con il Monza abbiamo avuto un rimbalzo verso il basso. Poi la squadra piano piano ci è assestata nelle difficoltà. Ora noi abbiamo ben chiaro le due cose, ripeto, ripeto. I mini obiettivi che sono quelli di prendere il Bologna ora, il primo mini obiettivo a 35, nello stesso tempo la squadra non deve perdere certezze. Quella che ha fatto, ripeto, 47 punti. e noi su quello dobbiamo lavorare e continuare a lavorare. Noi, come squadra, come gruppo di lavoro, quelli che lavorano tutti dentro la continuità, sappiamo che dobbiamo cercare di arrivare alla fine della stagione avendo fatto i punti che ci consentono di arrivare nelle prime quattro. Di essere nelle prime quattro al netto di quelle che sono le sanzioni, quello che è successo, che succederà, non lo so.